Amici della Cosa, buonasera, ci troviamo qui in diretta streaming nella sala della regina di Montecitorio e stiamo partendo con la graticola per definire i ruoli importantissimi dell'Ufficio di Presidenza e della Camera dei Deputati. Partiamo rapidamente con Giulia che vi spiegherà esattamente l'importanza del ruolo del questore e che cosa fa il questore all'interno della Camera dei Deputati. Ciao a tutti, io ricordo che giovedì mattina avremo qui alla Camera la seduta dell'Aula per votare Vice Presidenti, Questori e Segretari. Vi leggo direttamente dall'articolo 10 del regolamento della Camera dei Deputati. I questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono inoltre al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera, secondo le disposizioni del Presidente. Questo è il questore, noi dobbiamo indicare almeno un questore e quindi adesso chiameremo i candidati per ricoprire questo ruolo. Esatto, allora i candidati si possono avvicinare qui cortesemente, chiaramente questo è un momento storico perché è la prima volta nella storia della Repubblica italiana che i questori, i secretari e i vicepresidenti vengono appunto decisi in maniera collegiale e poi online streaming. Per cui secondo me un bel applauso per un momento storico, ce lo meritiamo noi, siamo 7000? Ce lo meritiamo noi e ce lo meritano già i 7000 cittadini, i nostri appunto datori di lavoro che si trovano a casa. Procediamo in questo modo, partiamo qui da destra con te Laura, una presentazione, ah scusami caro, no solo visivamente, e con 5 minuti appunto di presentazioni all'interno di 5 minuti come l'altra volta e inseriamo le domande, che ne pensate? Come o dopo? E allora facciamo 5 minuti di presentazione e 5 minuti di domande? Ok e ci capiamo tutti assieme, come vedete succede questo in un'assemblea, allora 2 minuti e mezzo di presentazione e 5 minuti di domande, ok? Che è importante. Prego Laura. Allora, che dire, più in qua, Laura Castelli, Piemonte, titolo di studio economia aziendale, ho lavorato fino a qualche anno fa, no per due anni e mezzo anzi in regione Piemonte con Davide Bono e mi occupavo di bilancio, di bilancio e della parte che riguarda sia il bilancio pubblico che tutta la parte del gruppo, per cui sia interna che esterna. A parte le competenze personali per cui uno deve farlo vedere cosa sa fare, non è che lo posso solo raccontare, credo che questo compito in istituti come le regioni sia quello che noi facciamo sempre, ossia quello di andare a cercare il lago nel pagliaio, la pulce eccetera. E questo noi in Piemonte l'abbiamo fatto parecchio, nel senso che l'attività ispettiva di chi come noi ha chiesto per tanto tempo, per esempio, gli affidamenti diretti. Allora noi abbiamo fatto tutto un lavoro, chiaramente con i consiglieri, però poi l'abbiamo fatto noi che macinavamo documenti, quindi un'attività ispettiva che partisse da quelle che sono le spese che nessuno dice, quindi quelle che il dirigente può firmare, quelle che non passano attraverso appalti e quant'altro. E quello che viene fuori è che ci vuole tantissimo lavoro, ci vuole un po' di naso, perché bisogna andare a cercare le cose giuste, ci vuole l'orecchio giusto, perché bisogna sentire in quel momento le cose che capitano ed essere in bolla, permettetemi. Io credo che sia una cosa fantastica perché non è mai successo, non è mai successo che una persona normale possa guardare dentro quella roba lì e quella roba lì certo non è tutto il bilancio dello Stato, ma è gran parte perché si parla solo del bilancio della Camera, però la responsabilità è grossissima e poi non ci dimentichiamo che tutta la parte che invece riguarda i servizi, quindi faccio un esempio idiota, ma quando vediamo l'albero di Natale con le palle nuove, allora quelli sono soldi dello Stato e quelli sono soldi che si potrebbero risparmiare, noi quante volte l'abbiamo detto in un'amministrazione, partire dalle piccole cose. E poi c'è tutta la parte riguardanti i regolamenti, perché se il questore deve far funzionare tutta la Camera, allora vorrà dire che potrà anche mettere in mano i regolamenti, quelli che insomma noi stanno un po' antipatici, che vorremmo migliorare eccetera. Io non faccio un appello al voto, dico solo che penso che sia un'attività fantastica, avrà anche, perché l'ho letto, diritto a un sacco di cose e questo per noi è un'altra dimostrazione di tutte quelle cose a cui noi rinunceremo in un incarico grosso come quello dell'Ufficio di Presidente. Grazie Laura. Allora, le prime tre domande avvicinatevi qui per il microfono così ci sentono appunto da casa. Eh, ci hai provato eh. Scusate. Allora, chi vuole fare delle domande? La prima domanda? Chi si alza? È meglio? D'accordo, allora proseguiamo con la presentazione. Carla. Buonasera, sono Carla Ruocco, ho portato qui i documenti del mio curriculum studiorum in modo che si possano mettere in rete con laurea, abilitazione, esami sostenuti, voti degli esami e quant'altro in modo che la trasparenza fondamentale per l'attività appunto che andiamo a chiedere di svolgere si concretizzi immediatamente. Sono laureata in economia e commercio, mi sono laureata a 22 anni, ho maturato un'esperienza in una società multinazionale di revisione contabile di due anni, per due anni, in cui la laurea l'ho presa con la abilitazione, cioè in particolare nel ramo amministrativo pubblico e in particolare poi anche l'esperienza in revisione mi ha portato a revisionare alcuni enti pubblici, in particolare ho acquisito una forte, diciamo, è stata un'esperienza molto particolare quella della revisione del bilancio dell'Aima, in cui appunto ho investito molto tempo durante l'attività di revisione e comunque nel ramo anche degli enti pubblici. Successivamente ho preso anche l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e sono stata poi sette anni in una società multinazionale americana nel controllo di gestione e dal 2004 sono funzionario tributario all'Agenzia delle Entrate, dove ho passato due concorsi, uno appunto per internal auditor e l'altro per funzionario tributario e poi ho optato per quello di funzionario tributario. Quindi diciamo che l'attività di audit è un po' quello che mi ha accompagnato durante il percorso. Da quando sono all'Agenzia delle Entrate, attualmente ho cambiato uffici, però in particolare sono sempre rimasta nella direzione centrale accertamento e l'ultimo ufficio cui ho fatto parte fino a pochi giorni fa è l'ufficio Imprese Minori e Lavoratori Autonomi, dove mi sono occupata dell'analisi del rischio di evasione e in particolare poi abbiamo impostato tutta la procedura anche tecnica per la collaborazione dell'attività della collaborazione tra comuni e Agenzia delle Entrate nella lotta all'evasione in applicazione del DL78 del 2010. Sebastiano Allora salve a tutti, sono Sebastiano Barbanti, ho 36 anni, sono laureato in scienze statistiche attuali e poi ho fatto un corso di specializzazione in marketing e distribuzione di prodotti assicurativi. Quindi sono, dopodiché ho lavorato per circa 8 anni, diciamo sono 13 anni che lavoro nel campo economico finanziario, quindi banche, assicurazioni, sim eccetera eccetera e intermedi finanziari a 360 gradi. Per 8 anni ho lavorato a Bologna in una primaria società di consulenza proprio per gli intermedi finanziari e poi ho proseguito sempre diciamo lo stesso percorso professionale ovviamente in Calabria con maggiore focalizzazione sulle banche. Mi sono occupato di redigere piani strategici per le banche, tra cui anche alcune banche molto grandi italiane, ho fatto supporto al controllo di gestione, mi sono occupato di customer satisfaction, piani di marketing, piani commerciali, quindi tutte cose dove ovviamente c'era bisogno di una forte preparazione quantitativa ma anche e soprattutto di visione strategica a 360 gradi, quindi conoscenza sia del mercato esterno e sia soprattutto dell'entità per cui facevamo il piano, in questo caso le banche o le assicurazioni, quindi vuol dire fare i raggi X praticamente ad un'azienda per capire poi dove questa può andare sulle base dei presupposti di mercato. Ovviamente questo lavoro mi ha portato a interrelazionarmi con il top management delle varie banche e assicurazioni, quindi sia il direttivo sia in termini di consigli amministrazioni e quindi ovviamente una capacità anche di dialogo, di mediazione su questi argomenti e poi anche ovviamente trattare materiali un po' riservati, quindi anche doti particolari di riservatezza. Poi per il resto direi che non ho nulla da aggiungere insomma, questo è stato un po' il percorso e ovviamente il risk management pure all'interno delle banche, per chi non lo sapesse purtroppo è quello che si richiama i principi di Basilea che hanno un po' contribuito a stringere il famoso cordone del credito per le nostre piccole e medie imprese. Per il resto niente a trovo a dire. Grazie. Grazie a te, ha anche guadagnato 10 secondi. Avanti con Mattia, giusto? Mattia Fantinati, ingegnere gestionale. Mettite un po' più al centro così ti vedono bene da casa. Sì, se volete anche mezzo metro avanti. Allora, io sono ingegnere quindi ho una certa cultura del numero, però gestionale perché è quella parte dell'ingegneria che spiega un po' la, diciamo abbiamo anche una infrenatura sulla gestione aziendale, su bilanci, su piani di investimenti, su stati patrimoniali e quant'altro. Io dai miei studi così vi cerco di mettere insieme sia la parte di cultura mia sia la parte del questore che è proprio un organo di vigilanza. Allora, la parte mia di cultura molto brevemente. Io sono un ingegnere un po' economista, quindi ho sempre trattato gestione di stabilimento, ho stato titolare di uno studio, sono diventato un po' la gestione nazionale d'Italia di un'azienda tedesca, sia dal punto di vista quindi nazionale che anche all'estero. Ho fatto anch'io un corso come Marta Grande all'università di Pechino, ho fatto anch'io un corso sul bilancio all'università di Manchester e questo diciamo ecco perché io mi propongo anche come esperto economico e soprattutto in economia aziendale. Dal punto di vista di ispezione io sono stato, perché mi sono dimesso per questa carica, consigliere ad un ordine professionale e quindi i consiglieri valutano che cosa? Vigiano proprio sul operato sia dei loro iscritti e di tutti gli appalti pubblici che ci sono nella nostra provincia e sono davvero tanti. Ecco perché io sulla vigilanza, su rispondere al Presidente come dice l'articolo 10, io ho una certa esperienza, per me sarebbe da questo punto di vista una strada già percorsa, chiaramente non come essere diciamo il questore della Camera dei Deputati, ma che sia io oppure che sia un altro del gruppo, ho sentito degli interventi veramente di persone molto preparate, io sarò a completa disposizione. Grazie. Andiamo avanti con Giorgio. Scusate innanzitutto il blocchettino è solo per poter utilizzare al meglio il tempo e dire due informazioni su di me. Prima di tutto prendo 10 secondi perché come ha detto già anche lui effettivamente mi rendo conto che siamo un gruppo con una professionalità altissima, non so in che altre forze politiche si può avere un dibattito con persone che hanno tale esperienza, tale cultura e quindi già questo a prescindere come ha detto lui, chiunque vada sono sicuro che potremo anche creare un gruppo di lavoro poi per supportare la persona che sarà lì. Quindi perché siamo cinque persone penso uno con un'esperienza più dell'altra. Io sono laureato in Ingegneria dell'Informazione, dopo la laurea in Ingegneria dell'Informazione ho fatto un Master in Business Administration presso il Trinity College in Irlanda dove poi ho lavorato per un po' di tempo. L'ultimo mio ruolo è stato proprio da consulente presso una società americana con la filiale in Irlanda dove mi occupavo di consulenza in generale, ma prima di questa qua mi occupavo, mi sono sempre occupato di consulenza da libro professionista per varie aziende e per vari settori. La cosa più importante del ruolo del questore e spero sia condivisa da tutti noi, sia proprio il fatto che oltre a capire i numeri che sono scritti bisogna utilizzare degli indici in modo da capire poi anche per noi stessi come gruppo dove possiamo recuperare quei fondi che ci serviranno poi per coprire eventuali riforme. Quindi non è tanto solo il numero ma effettivamente capire poi come gestire i vari bilanci, come gestire il conto economico a fine anno per dedicare una parte di fondi per le nostre riforme. Ecco, poi a prescindere da quello che ho fatto, dalla mia esperienza, penso che i pezzi di carta siano quelli che siano, quindi non mi autoreferenzio da quel punto di vista. Sì, poi in realtà non voglio autoreferenziarmi tanto, nel senso che la mia esperienza è quella. Ah, scusatemi, non sono capace di usare il microfono, questa è una cosa. E niente, queste qua sono state le mie esperienze sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista universitario. Ritengo che possano essere utilizzate all'interno del nostro gruppo per portare anche fuori i dati reali dal punto di vista economico per poterli utilizzare al meglio. Confido comunque sia, come sempre nel gruppo, confido in queste cinque persone, quindi poi a voi la scelta, ragazzi. Allora ragazzi, adesso procediamo in questo modo, già le prime due domande, Massimo e Dalila. Sarebbe giusto magari innanzitutto arrivare a cinque e poi partiremo con le domande, cioè risponderà sempre una persona differente, per prima, perché le domande esattamente valgono per tutti. Per cui la prima domanda Massimo risponderà come stiamo messi in questo primo Sebastiano e poi la domanda successiva invece risponderà prima Laura. Massimo se ti puoi avvicinare per farla qua la domanda. E il tempo, il tempo vogliamo mettere due... Va bene, tempo a discrezione nostra, noi tre censori dietro. Dunque alcuni l'hanno detto, altri magari no. Chi ha esperienza di bilanci di enti pubblici, perché è ben diverso dei bilanci di società private e fino a che importi come valore di bilancio, quindi stati patrimoniali, economia, eccetera, eccetera. Prima Laura, allora, che stai in questa posizione. Allora, beh, io mi sono occupata del bilancio del Piemonte. È un bilancio che pesa abbastanza, nel senso che ha l'80% di questo bilancio occupato sulla sanità e ovviamente è un problema perché ha un piede nella fossa, nel senso che sono soldi che non arrivano da Roma. Per cui la fatica di un bilancio come questo per noi è sempre stata la connessione tra l'ente superiore, qua, devo stare qua, mi dico. Va bene. Tra l'ente superiore e poi la regione stessa. Credo che sia, ma non perché l'ho fatto io, sia importante lavorare sui bilanci pubblici perché anche se la legislazione oggi si sta uniformando, quindi c'è un tentativo di far diventare un bilancio pubblico come un bilancio semiprivato per alcuni concetti chiave, in realtà si distanzia molto, più che altro proprio nella tipologia e nel modo. E senza dubbio per noi sarà importante capire quali sono i soldi che a cascata arrivano ad altri enti. Fermo restando che magari le province ce le togliamo, però. Dopodiché è nulla, è la mia esperienza. Come? Siamo 8 mila. Allora siamo 8 mila da casa, di più di 8 mila e siamo anche su Sky in diretta in questo momento. Carla se puoi rispondere alla stessa domanda. Tempo che chiamo due minuti a risposta, se no facciamo degli interventi troppo lunghi. Per quello che mi riguarda richiamo di nuovo l'esperienza INAI, ma in realtà non si trattava precisamente della gestione di un bilancio pubblico, ma anche al caso abbiamo revisionato l'utilizzo dei fondi del FEUGA che era un fondo gestito dalla comunità europea e noi eravamo revisori per la gestione di quel, cioè erogato dalla comunità europea per l'agricoltura e quindi noi eravamo ricontrollori della gestione di quel fondo nell'ambito delle varie settori agricoli. Poi nell'ambito invece dei bilanci in sé per sé, io ho più esperienza privatistica perché come ho detto poi ho ripreso con la società, questa società multinazionale farmaceutica in cui ho fatto 8 anni reporting mensili e poi adesso appunto in agenzia delle entrate, imprese minori e lavoratori autonomi, quindi più un lato diciamo privatistico sotto questo aspetto. Allora per quanto riguarda me invece utilizzando ovviamente l'esperienza fatta proprio col lavoro, quindi sui bilanci bancari, mutuando quell'esperienza ho analizzato il bilancio soprattutto del comune di Cosenza. L'anno scorso nel quale abbiamo avuto le amministrative, scusate nel 2011, anno in cui abbiamo avuto le amministrative e gioco forza abbiamo dovuto insomma fare anche lì un po' le pulci a quel bilancio, per cui lì ho avuto modo di studiarlo, di approfondirlo e anche in quel caso un po' come il Piemonte, anche Cosenza è in prediscesso finanziario, quindi c'è stato insomma un bel lavoro da fare. Grazie. Allora per quanto riguarda i bilanci e i conti economici, avendoli studiati soprattutto con normative europee, normative inglese e quant'altro, soprattutto esperienza per quanto riguarda le grosse aziende, i grossi enti pubblici, perlomeno stranieri e quindi soprattutto conti economici e bilanci con le varie normative che vengono applicate sia in Italia che all'estero. Questo lo dico perché molte volte quando si parla di, anch'io che provenivo da ingegneria, quindi un ruolo completamente diverso quando si parla di conto economico o di bilancio, la gente che non lo conosce comincia a impaurirsi, pensare che sia chissà che cosa. Non è niente di trascendentale, sono delle regole fondamentali, economiche che si applicano a dei numeri e sono delle regole per dove metti il numerino giusto nella casella giusta e come poi attraverso degli indici hai degli indicatori di come è andato l'ente pubblico o come è andata l'azienda. Niente di trascendentale, sono regole imparate, scritte, quindi bocca al lupo tutti. Mettiti al centro Mattia. Proprio molto sinteticamente, enti pubblici no, lo dico molto sinceramente. Io penso che non sia un problema gestire dei tecnici, personalmente no. Grazie, allora la seconda domanda Dalila, vi chiederei se riusciamo a stare nella risposta sotto al minuto perché poi dobbiamo appunto eleggere le altre figure. Ecco il microfono. Volevo chiedervi quali sono stati gli obiettivi o comunque i risultati che avete raggiunto nella vostra esperienza professionale o politica, nel caso magari di Laura. E adesso parti tu Carla perché Laura è partita per prima. Come dicevo, partendo dall'ultima, noi abbiamo impostato tutta la parte operativa anche che comporta il collegamento e l'integrazione del sistema tra i comuni e l'agenzia delle entrate per quanto riguarda la collaborazione dei comuni all'attività di accertamento. Poi rievoco sempre l'esperienza in anima da fatto che stiamo in tema, come obiettivo in quell'occasione il bilancio fu certificato con riserva perché io personalmente mi accorsi che c'era un problema e infatti mi sono venuti tutti i capelli bianchi. Devo confessare che ho la tinta perché trovai un problema di conversione, allora c'era ancora la rira, di conversione che non mi quadrava con un regolamento comunitario perché cambiava di periodo in periodo, avevano applicato un regolamento relativo ad un periodo precedente per un'erogazione relativa ad un altro periodo e quindi ci fu tutto un caso e in quell'occasione non fu certificato ma con riserva. Perfetto, Sebastiano? Allora, io ho circa una quarantina di piani strategici all'attivo e ovviamente per fare i piani strategici come sapete bisogna analizzare il bilancio, spaccarlo in quattro, capire quali sono i driver della redditività ma soprattutto anche dove poter andare a risparmiare qualcosina. Una ventina di piani di budget, altrettanti di circa commerciali e più o meno anche altrettanti di marketing per cui insomma questo è un po' il quadro. Grazie. Spero di aver interpretato in maniera corretta la domanda e quindi ti rispondo per la mia interpretazione. Il mio, tra virgolette, successo personale nell'ultimo tempo è stato quello di qualche mese fa di riuscire a essere chiamato da questa azienda americana dopo una serie di processi, di selezione, Skype e cose di questo genere ad andare su. Fortunatamente o sfortunatamente dopo due mesi mi sono dovuto dimettere per essere qua con voi. Questo era un po' il sogno però sto vivendo un altro sogno quindi questo. Lì il mio ruolo era di senior consultant, posso dirti di tutto e di più e parlarti con paroloni che però non so quanto possano in un qualche modo spiegarti. Il mio ruolo all'interno dell'azienda era comunque sempre di riferimento con dei eventuali ministeri, quindi dei clienti privati o dei ministeri dello Stato irlandese per valutare quali erano le inefficienze e poi poter proporre degli impatti o dal punto di vista tecnologico o dal punto di vista economico di qualsiasi altro tipo per sopprendere a questi problemi. Se vuoi sapere la mia carriera, ho lavorato dieci anni come dipendente, poi me ne sono andato all'estero, ho fatto Inghilterra, Cina, ho aperto ancora antetempo nella prima missione imprenditoriale del nostro governo una specie di canale tra Italia e Cina, dopo l'abbiamo continuamente anche alimentato, sono entrato nelle energie rinnovabili, ho aperto uno studio, dopodiché un'azienda tedesca mi ha dato la gestione del mercato italiano, sia del mercato ma di tutta l'attività italiana. Dal punto di vista sociale sono partito da frequentare il mio ordine professionale e consigliere, referente giovane nazionale, regionale, anzi provinciale, regionale e poi uno di quelli nazionali. Allora, nel mio caso, ma non è il mio caso, è il nostro caso, perché quelli che sono stati i risultati sono ottenuti grazie a tutti, nel senso che io ci ho lavorato in prima persona ma insieme a tutti gli altri, ti risponderei dicendo un sacco di querele, nel senso che quando si vengono a scoprire cose importanti, come noi abbiamo tirato fuori i casi di fondi utilizzati in maniera poco chiara nel socio sanitario, nell'assistenziale, piuttosto che cose di questo tipo, la prima cosa che fai è darne comunicazione o comunque cominciare a bacchettare, noi in quel caso avevamo bacchettato le cooperative, guarda caso cooperative rosse e quindi qualcuno si è sentito un po' punto, dunque ci ha fatto una serie di querele, in realtà dietro c'era una cosa molto più grossa che è stata poi tirata fuori dal comune di Torino, perché in quel caso riguardava proprio il comune di Torino e questo ha dato vita a un sacco di arresti, nel senso che il comune di Torino oggi, grazie anche al lavoro di Chiara Appendino e Vittorio Bertola, sta vivendo una pulizia grossissima, questo discorso non è per dire grazie a me, no, grazie a loro, un gruppo, no perché sembra che poi un gruppo fatto bene si riesce a fare tanto altro. Allora Riccardo, risponde per primo Sebastiano. Solamente per chiedervi, mettiti al centro Riccardo così ti guardano da casa. Oltre l'attività professionale, volevo chiedervi come vi definite per caratteristiche comportamentali, cioè che caratteristiche avete perché penso che oltre la professionalità, il ruolo del questore ha altre caratteristiche per il comportamento, per il carattere. Ma Sebastiano, al centro. Allora, come avevo detto anche prima, e come penso ormai alcuni di voi abbiano potuto constatare, l'esperienza professionale mi ha portato a maturare delle doti ovviamente di riservatezza, di dialogo, di diplomazia, perché ovviamente nel fare il lavoro che faccio bisogna portare a fattore comune le visioni poi di tutti i vari organi, in questo caso sia il direttivo che l'amministrativo. Per cui anche in quel caso c'è bisogno di una capacità anche di mediazione, come diciamo, di riservatezza, ma anche di autorevolezza. Attenzione, autorevolezza non autorità, perché quando ti trovi poi a dover mettere a fattore comune quelle proposte, gioco a forza e bisogno poi di mettere tutto a sintesi. E in quel caso la capacità anche immediatamente di elaborare una sintesi e di farla valere per mettere a sintesi tutto, ti porta a forza ad avere una sorta di autorevolezza che ti vuole guadagnare. Allora dal punto di vista professionale innanzitutto la precisione sulla professionalità, la chiarezza ma soprattutto in questo ambito la chiarezza dal punto di vista di sapere come si rispettano le regole economiche nello stato di bilancio ma soprattutto sapere dove possono trovare dei sotterfugi per nasconderti la verità all'interno dei numeri. Quindi poi oltre a sapere come applicare le regole, sapere come gli altri cercano in un qualche modo di evitare le regole e deludere le regole sulla carta dal punto di vista numerico, perché è solo in quel modo secondo me che riesci poi a capire effettivamente come te la stanno facendo sotto il naso. Questa è una caratteristica fondamentale. Niente più. Avanti. Fondamentalmente due. Il primo è lavorare in un gruppo e coordinare delle persone. Nessuno di noi è un tuttologo, nessuno di noi sa tutto. L'importante è gestire le competenze e gestire le persone. Questa è la cosa fondamentale in tutto. E il secondo in un ordine professionale ho imparato una cosa fondamentale che io l'avevo sempre data un po' per scontato. L'etica, la deontologia e la professionalità. Queste tre cose io le ho imparate lì, soprattutto nel prendere decisioni scomode. Ok. Beh, diciamo io penso caratterialmente, stando nel Movimento 5 Stelle, a me non piace comandare dall'alto, ma mi piace creare un clima di squadra. Questo è per me fondamentale. Un'altra mia caratteristica personale, penso che sia quella di non mollare. Quando una cosa non mi quadra, voglio andare fino in fondo, fino a che tutti i pezzettini del mosaico non stiano nella mia, nella logica che ho identificato. Caratterialmente penso di essere un'abbastanza sanguigna e in questi anni però ho cercato di trarne il buono di quello che un carattere abbastanza sanguigno ha e cercare di mettere da parte invece le caratteristiche un po' più negative che uno può avere. Quindi l'irruenza oppure avere un tempismo un po' troppo. Però devo dire che sono contenta perché non è facile. Poi ho 26 anni quindi penso che siano percorsi caratteriali che si fanno in tanti anni. Una delle cose che io non sopporto è la non giustizia, ma non giustizia nel senso proprio la giustizia tra le persone tra le cose, tra i gruppi, gli individui. Io l'etica penso di averla, penso che non sia una frase banale, dopodiché sono giovane quindi chiaramente tutto quello che ne consegue. Massimo aveva un'altra domanda, se può venire qui rapidamente e poi l'ultima Giulia e poi passiamo alla votazione. La domanda era questa. Qual è la vostra esperienza? Si riallaccia un po' ma è più dettagliata. L'esperienza di lavoro di gruppo, quindi che ruolo avete ricoperto nell'eventuale gruppo dove avete lavorato e se siete consapevoli del fatto che le altre due persone lavoreranno con voi sono due questori di parte avversa e quindi non vi saranno di certo favorevoli nel lavoro che dovrete svolgere. Quindi come vorreste, se avete pensato ad affrontare questo tipo di problema. No, giustissimo. Allora, dal punto di vista del lavorare nel gruppo, riporto ancora l'esperienza che ho avuto all'estero perché è stata quella, da quel punto di vista lì, più formativo, perché mi sono ritrovato a lavorare in team sia durante il master che poi con varie consulenze che abbiamo fatto proprio come lavori dopo il master, a lavorare in team di personalità di qualsiasi nazionalità. Mi ricordo che qualche giorno fa stavo già parlando con qualcuno dei miei compagni di Brescia, il fatto che come pensavo fosse la situazione più difficile nel lavorare nel team e come poi mi rendo conto che quelle diversità culturali le stiamo oggi vivendo qua dal punto di vista proprio del lavorare tutti insieme, di come una cultura, di come chi viene magari da certe regioni abbiano cultura particolare in come approccia certe cose, chi viene da altre, come approccia altre e come le varie personalità sono diverse. In quel caso lì in particolare ho lavorato come project manager, quindi alternativamente in funzione del lavoro di consulenza nel nostro team, scegliamo una persona e basta. No, perché l'abbiamo fatto partire con 10 secondi di ritardo, però è regolare. Andiamo avanti. Scusa, potresti ripetere la domanda, la prima parte era lavorare in gruppo e la seconda parte? Ah, ok. Di lavorare con due questori diciamo avversari. Perfetto, io lavorare in gruppo l'ho sempre fatto, quando soprattutto fai una professione tecnica non puoi lavorare da solo, soprattutto nella costruzione di impianti, nella gestione di progetti, soprattutto come dicevano prima, anche quando ad interfacciarsi sei con persone cinesi, con persone tedesche, con persone inglesi, che sono più o meno gli attori con cui io ho sempre lavorato. Per quanto riguarda il fatto che se sono consapevole che altre persone sono avversi a me, certamente io reputo una cosa, io sono sicuro che non sono solo, innanzitutto, io sono sicuro che se io mi comporterò bene in modo trasparente, etico, fermo, deciso, io credo che otterrò il rispetto anche delle altre persone, che dopo quello che fanno gli altri avranno loro da rispondere al loro elettorato. Sebastiano. Allora, ho sempre lavorato in gruppo perché lo prevedeva proprio il mio lavoro, ovviamente come penso tutti quanti sono partito da semplice assistant, diciamo così, e poi pian piano fino a gestire anche un team di persone, di 4-5 persone, poi divisi in più team perché era il nostro modo di lavoro. Per quanto riguarda invece la questione di avere altri questori, anche quello fa un po' parte del mio lavoro, in questo caso essendo io un organo che presta consulenza e quindi un po' diciamo super partes, vengo tirato dalla giacchetta a destra e a manca, cioè sia da direttori che da amministratori, per cui sta a me poi far valere quella che è la posizione più corretta e più giusta per la banca, a prescindere dalle visioni individualistiche che hanno ognuno di loro, quindi da quel punto di vista, fermezza assoluta, non c'è nessun dubbio, insomma. Avanti. Io ho sempre lavorato in gruppo e conto molto sull'impatto umano, parto molto collaborativa con tutti, però se mi accorgo che c'è qualcuno che gioca sporco, proprio non me la faccio fare sotto al naso, vado fino in fondo perché credo molto negli ideali, nei valori e quando uno è pulito, trasparente, cristallino può andare fino in fondo senza timore, sicuramente ho una rete di protezione perché quando si hanno dei valori comunque trovi le persone che alla fine ti seguono, ti capiscono e a volte nelle difficoltà lavorative mi sono trovata anche inizialmente isolata, però poi quando sono stata compresa ho trovato sempre qualcuno che è stato dalla mia parte, quindi io parto collaborativa, getto il ponte nei confronti di tutti, però poi alla fine trago le conseguenze e mi impunto quando vedo che non c'è la stessa lunghezza d'onda. Tempo. Laura. Io credo che si debba lavorare in gruppo, però essendo le altre figure che probabilmente se mai prenderemo un questore ci saranno, non bisogna dimenticarsi che lavorare in gruppo non vuol dire dimenticarsi di alcune fette di quel lavoro su cui in realtà bisognerà poi comunque metterci un occhio perché io sinceramente posso lavorare in gruppo, dividermi il lavoro con altri due questori, ciò non toglie che ognuno di noi controlli il resto, proprio per lo stesso concetto di cui si parlava prima. Io ho sempre lavorato in gruppo, credo che il gruppo in questo caso sia il nostro e credo che il gruppo dovrà per forza essere commissione bilancio piuttosto che tutti quelli che si occuperanno di cose analoghe, quindi chi si occuperà di appalti piuttosto che servizi piuttosto che altre cose, senza dimenticare che bisogna avere l'occhio vigile rispetto agli altri. Ottimo. Allora procediamo con l'ultima domanda. Carla, spostati un attimo qua così da casa vedono Giulia. Sì, la mia domanda presuppone una risposta secca. Sappiamo che i questori hanno privilegi ulteriori rispetto a quelli degli altri parlamentari, hanno uno stipendio più alto, hanno a disposizione dei decreti per servirsi di maggiori risorse, per chiedere più personale, più servizi. Quindi la mia domanda è siete disposti a rinunciare ai privilegi per la figura del questore quando ricoprirete questo ruolo? Per primo tu, forse Mattia adesso, no? Ah beh, è vero, questa hai ragione. Ma boia, io penso che fare politica deve essere un onore, non un privilegio. Io rinuncio assolutamente a questi privilegi e tutto quello che farò, ma penso anche faremo, deve essere nella trasparenza più totale, in modo che voi deciderete se ci servirà qualcuno in più, se è giusto che, non so, che avere uno stipendio in più perché magari bisogna fermarsi di più. Deve essere deciso da noi. Perfetto. Sebastiano? Assolutamente in linea, sono pronto a rinunciare a tutto, ma deve essere il gruppo che insieme a noi deve decidere che cosa dobbiamo rinunciare, perché è inutile negarcelo, determinati ruoli hanno bisogno anche di un determinato supporto. studiamolo tutti insieme e decidiamolo tutti insieme come al solito e io poi sono dispostissimo a seguire le direttive del gruppo. Ovviamente sono in linea e dato anche, diciamo anche, mi riallaccio anche al discorso della Presidente della Camera, facendo cuneo sul fatto che sicuramente noi lo faremo, cercherò con forza di essere seguita anche da altre persone che mi circondano, non ovviamente del Movimento, ma agli altri questori, Presidente e così via, per risparmiare anche un altro bel po' di quattrini. Hai risposto che sì, l'ho detto prima nella presentazione, ce ne sono talmente tanti che noi forse neanche li immaginavamo, io personalmente non li immaginavo, dopodiché assolutamente sì, così come la parola chiave che ci accompagna deve essere sempre trasparenza, quindi spiegando anche in questo ruolo che cosa si va a fare. Assolutamente sì, perché ci occupiamo di numeri e andiamo a cercare dove tagliare, quindi è fondamentale. Ma in più sul fatto dei collaboratori, io rinuncerei ai collaboratori esterni, ci avremmo qua un gruppo di cinque persone, saremmo noi tra di noi i nostri collaboratori, se dovesse salire a lei, saremmo noi e così via, quindi risparmiamo, punto e basta. Allora ragazzi, si è conclusa questa fase, passiamo alle votazioni, per cui vi chiedo gentilmente di sedervi tutti quanti ordinati. Come? Sì, pensavamo prima che possono, per esempio, diceva Sebastiano che lui potrebbe valutare e votare un altro candidato quest'ora perché ritiene che abbia maggiori competenze di lui, secondo me è una cosa corretta, secondo voi no? Evitiamo come sempre le votazioni per i candidati, d'accordo. Allora, ok, meglio di no. Allora, ragazzi, servono le persone qui che contano, non lo possono fare per correttezza gli stessi candidati. Se vi potete, voi candidati quest'ora, andare tutti a destra, per favore. Ah, ok, anche gli accompagnatori non eletti, se possono spostarsi un attimino da quella parte per valutare bene le mani e non aver problemi, vi ringrazio. Se gli accompagnatori non eletti possono un attimino andare nella parte destra della sala della regina. Certo, certo. Allora, le modalità del voto sono semplici. Ognuno voterà un candidato e basta. E conteremo i voti che ognuno prenderà e sulla base dei voti che ciascun candidato prenderà andiamo appunto a stilare la graduatoria. Dal primo... Come? Chi è in piedi, per favore, gli eletti portavoce dei cittadini alla Camera si siedano per cortesia. Appunto, ognuno può votare solo una volta e la graduatoria appunto che uscirà fuori sarà quella definitiva in base appunto al numero dei voti che ciascun candidato otterrà. È chiaro? Perfetto. Iniziamo a questo punto come abbiamo iniziato da prima. Ce l'abbiamo le persone che stanno contando? Sì? Perfetto. Le comunicate a Luca, che Luca prenderà il numero di voti di ognuno. Prima di... Ragazzi? Prima di eleggere i nostri candidati questori io vorrei davvero dire che le competenze sono altissime. E proprio penso che dobbiamo esserne fieri noi cittadini a casa di avere dei candidati con queste competenze. Hanno detto che eravamo impreparati, che non avevamo le competenze, eccetera, eccetera. Non ci curiamo di loro ma guardiamo e passiamo e andiamo oltre. Iniziamo con Laura, se può avvicinarsi in questo momento qui al centro. Laura Castelli. In questo momento si aprono votazioni. Chi vota per Laura Castelli? Ehi, niente applausi adesso, niente applausi. Erano gli altri candidati uguali. E lo so, alla fine eventualmente faremo gli applausi. Grazie. 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 Perfetto. Carla, se ti puoi avvicinare. Alla fine li diciamo, sì. Qui al centro, Carla, per favore. Chi vota per Carla Ruocco? Grazie. Grazie. Quattro, scelta. No, eravamo due. Perfetto, ce l'hai? Allora, grazie Carla. Gli applausi alla fine. Sebastiano Barbanti. Scusate, ho sbagliato il stagione? Sì. Vai. Sebastiano. Scusate, ho sbagliato. Mattia Fantinati. Chi vota per Mattia, alzi la mano adesso. Scusate, ho sbagliato. Giorgio Sorial. Chi vota per Giorgio, alzi la mano. Allora, ragazzi. Abbiamo la prima, chiaramente il primo questore che dovremo appunto esprimere è stato eletto con 40 voti. Si può avvicinare qui Laura Castelli. Li possiamo fare un bel applauso. Allora, dato che appunto noi da regolamento dobbiamo esprimere due questori, proponeva Roberto di fare una seconda votazione, dato che alcune persone, dato che alcune persone, dato che alcune persone hanno votato Laura, per eleggere il secondo questore, tra i quattro che sono arrivati nelle altre posizioni. Siamo d'accordo, vero? E può votare chiaramente anche Laura. Per cui in questo momento... No? Sì. Lo so, questa è la proposta... E la dobbiamo decidere, ragazzi, come tutte le cose che decidiamo assieme. Questa è la proposta di Roberto. Come? È giusto, io l'avevo proposto, per cui lo decidiamo assieme, non è che decido io. I candidati dicono la cosa, a questo punto va messo a votazione come votiamo qualsiasi altra cosa, per cui se ci possiamo sedere tutti, votiamo se mantenere quest'ordine, per cui la seconda posizionato andrà, insomma, come seconda posizione, oppure fare un'ulteriore votazione tra i quattro che sono arrivati dopo, d'accordo? Lo so, però l'abbiamo detto, lo so, ogni tanto li commettiamo gli errori, è una cosa assolutamente umana. Se vi potete sedere in questo momento, anche voi, votiamo tutti, tutti quanti, l'opzione A è mantenere quest'ordine, uscito dalla precedente votazione. L'opzione B è rivotare i quattro, i quattro candidati arrivati appunto dopo Laura, e vedere quale sarà il nostro secondo candidato questore espresso, d'accordo? Chiara? Opzione A e B? Iniziamo con l'opzione A, chi vota A per mantenere lo stesso identico ordine? Ma buono, questo non è, Roberto, tu puoi votare. Ma perché non dici? Non è che tu stai votando tu stessi, stai votando una proposta. Un attimino, chi vota l'opzione B, cioè di rivotare adesso tra gli altri candidati? Contiamo, contatori, state contando? Ah, Roberto, fai dormi? Ok, ok. Ok, l'opzione B è passata, per cui rivotiamo i quattro candidati. Ripartiamo da Carla, d'accordo, sì. Carla, se ti puoi avvicinare, come prima, seduti, ordinati, mi raccomando, i contatori. Chi vota come nostro secondo questore... Sì, sì, non ho capito. Sì, candidati fuori a parte le persone che stanno contando, alcuni stanno contando. Chi vota come secondo questore, Carla Ruocco, alzi la mano adesso. Noi qua già le contate il tavolo. Grazie, Carla. Sebastiano Barbanti, se si può avvicinare. Chi vota, Sebastiano, alzi la mano. Se si può avvicinare Mattia. Chi vota, Mattia, alzi la mano. Uno in più ha votato qui, Roberto, alla fine ha alzato la mano. Questa fila può... Ok, sono tre. Giorgio Sorial, se si può avvicinare. Giorgio. Chi vota per Giorgio, alzi la mano. Fila due? Fila uno, sei. Fila due? Tre? Allora ragazzi, con 25 voti è il nostro secondo candidato a quest'ora espresso, facciamo un bel applauso a Carla Ruocco. Che era seconda anche prima, per cui. Passiamo, grazie a tutti, passiamo velocemente al ruolo del vicepresidente. Ah, scusate, sì. Gli altri voti con 19 secondo Sebastiano Barbanti, 16 con Mattia Fantinati e 14 Giorgio Sorial, per cui combattutissima. Andiamo, procediamo con l'elezione del ruolo dei vicepresidenti. Se si possono avvicinare qui. No, aspetta che prima diciamo... Ah, certo, prima... Sì, vai Giulia. Allora, beh, innanzitutto ricordo che giovedì mattina, quando ci troveremo in aula, noi voteremo e daremo la preferenza, due nomi per i vicepresidenti, due per i questori e quattro per i segretari. Detto questo, cosa fanno i vicepresidenti? Articolo 9 del regolamento della Camera dei Deputati. I vicepresidenti collaborano con il presidente. A tal fine possono essere da lui convocati ogni qual volta lo ritengo opportuno. Sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento. Quindi, vicepresidenti, candidati, venite. Avvicinatevi. C'è però la graticola. Esattamente, per l'ordine e anche per valutare che siano dei candidati all'altezza. E per cui iniziate anche voi, nello stesso modo, con le vostre presentazioni, due minuti e mezzo. Aspetta che mettiamo il tempo. Allora, Luigi Di Maio, eletto in Campania 1. Sono di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Studio giurisprudenza, ho 26 anni. Questo gennaio avrei dovuto aprire la partita IVA come webmaster. Mi occupavo di webmarketing. Poi è iniziata questa esperienza. Scrivo presso alcune testate giornalistiche locali. Nella mia esperienza di partecipazione ho presieduto il Consiglio degli Studenti di Facoltà, della Facoltà di Giurisprudenza della Federico II, che conta 18.000 iscritti. È stata la mia esperienza di presidenza. Abbiamo vidimato diverse commissioni in fase redigente, in fase deliberante, per alcune questioni della riorganizzazione della didattica. Come rappresentante degli studenti ho partecipato ai lavori di alcune commissioni qui, come la Commissione Cultura della Camera dei Deputati nel 2005. E abbiamo lavorato appunto a quella che doveva essere una riforma scolastica, che poi in realtà non si è rivelata tale. Personalmente, nella mia esperienza, negli organi collegiali, soprattutto studenteschi, ho cercato sempre appunto la mediazione per riuscire ad arrivare a dei risultati condivisi. Questo metodo applicato alle idee del Movimento 5 Stelle l'ho portato con me, lo porto con me dal 2007, da quando faccio parte dei Meetup, in diverse iniziative che abbiamo cercato di portare avanti sul nostro territorio, che vanno appunto dall'inquinamento da sversamento illecito di rifiuti tossici, che riguarda le eco-mafie, fino al Wi-Fi. L'obiettivo è quello di collaborare con le amministrazioni locali, affinché si adottino strumenti e provvedimenti che possano riuscire a risolvere il problema. Su questo, insomma, nel mio comune, nella mia esperienza dal Movimento 5 Stelle, che ha presentato una delle prime liste del Movimento in Campania nel 2010, abbiamo lavorato appunto a progetti di videosorveglianza con gli uffici tecnici del Comune, abbiamo lavorato a progetti di connettività, abbiamo portato avanti diverse tematiche, soprattutto sulla infiltrazione camorristica all'interno degli enti pubblici. In questi anni ho realizzato che molto di quello che riesce a favorire le mafie e nelle nostre stesse leggi, e non sono falle, a volte sono addirittura leggi ad mafiam. Il senso... Tempo. Ok, finisco? Finisco. Semplicemente dicendo, mi propongo per questo ruolo, soprattutto per portare il metodo del Movimento 5 Stelle nell'ufficio di Presidenza. Un vicepresidente ha diritto a 3.000 euro di indennità, l'ufficio di Presidenza ha un parco macchine enorme, 13.000 euro di spese di rappresentanza, ci sono tante di quelle cose da cominciare a portare fuori, portiamo un po' d'aria in questo ufficio di Presidenza, collaborando con la nuova eletta Presidente della Camera dei Deputati che ha detto di voler lavorare in tal senso. Grazie. Anche tu Massimo avrai a disposizione un po' più di tempo. Sono Massimo Artini, ho 39 anni e vengo da Incisa Valdarno in provincia di Firenze. Sono un imprenditore informatico, ho iniziato la mia esperienza nella mia azienda che insieme ad altri soci ho creato nel 2001 e esclusivamente ho fatto questo, sono un ragioniere programmatore, non ho una laurea anche se in passato avevo iniziato a fare ingegneria. Per andarla in concreto, la necessità di avere un Vice Presidente è perché nell'ufficio di Presidenza è importante avere più persone che rappresentino il Movimento 5 Stelle. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che tutte quelle sono le indennità di carica e tutti i benefit che sarebbero del Vice Presidente vanno ovviamente rifiutati anche per portare giustamente una cosa diversa di fronte ai cittadini è quello che il Movimento 5 Stelle fa solitamente. Né più né meno la volontà è quella di imprimere e di voler anche controllare quella relazione dell'ufficio di Presidenza. La Presidente sembra essere una persona ragionevole, una persona che comunque vuole aprire una trasparenza nuova. Avere più persone possibili del Movimento 5 Stelle dentro l'ufficio di Presidenza è una cosa importante perché calendarizza i lavori, fa tutta una serie di azioni e sono fondamentali per far andare bene le leggi e quindi seguire bene i passaggi per non ingolfarli in determinati punti. Questo è. Avanti con le domande. Chi vuole fare una domanda? Chi vuole fare una domanda? Riccardo, possiamo farne anche tre di domande. Solamente per chiedervi nel caso del Vice Presidente Vicario se vi sentite pronti a sostituire il peso del Presidente della Camera quando questo sarà assente. Indubbiamente come Movimento, io l'ho detto sempre, noi siamo qui perché ci siamo presi la responsabilità di fare delle cose. Se noi avessimo la paura di farle, tutti siamo qui per farle e quindi l'impegno c'è per forza. Senz'altro, per le stesse ragioni, e ho una gran voglia di chiamare i deputati deputati e non più onorevoli perché poi lo decidiamo dopo se siamo stati onorevoli, caso mai. Io ho una domanda. A me il discorso, come ho detto, del Presidente della Camera è piaciuto abbastanza, anche se, come abbiamo sempre detto, sono solamente parole per adesso fatti. Vi vorrei chiedere se voi avreste detto qualcos'altro. Io personalmente i temi che ha lanciato la nuova Presidente della Camera sono molto forti. Forse si confanno più ad un messaggio istituzionale, ai governi, alle forze politiche, più che di operato personale. Io avrei premuto di più sull'operato personale, su quello che vogliamo diventi questo palazzo, la Camera dei Deputati. Come diceva Roberto qualche giorno fa, noi siamo entrati qui fisicamente, ma questo è un palazzo adesso da scoprire. Abbiamo scoperto già che qualcosa ce lo nascondevano, tanto altro non lo conosciamo, portare aria fresca lì dove per anni in qualche modo si sono nascoste alcune cose è il primo obiettivo. Quindi io avrei puntato molto di più sul mio mandato da Presidente, però insomma i temi sono di tutto rispetto, assolutamente. In merito al discorso della Presidente che ha fatto dopo l'insediamento, io già lì per lì posso dare un giudizio non completamente positivo perché mi è sembrato estremamente retorico, cioè chiunque avrebbe potuto farlo. In quella situazione avrei preferito fare un discorso più rivolto ai cittadini, meno propagandistico perché effettivamente si è girato tutto lo scibile tranne la pace nel mondo, si è girato veramente tutto e avrei dato un messaggio più diretto ai cittadini di cambiamento. Carlo se ti puoi avvicinare. La domanda di Rito, la domanda di Rito, esatto, ti puoi il tuo nome e cognome, lo dobbiamo fare dall'inizio. Carlo Sibilia, Campania 2, vi volevo chiedere se, la domanda di Rito che si fa, chi si candida per queste cariche per il Movimento 5 Stelle, quale sarà il vostro atteggiamento in merito alle eventuali indennità di carica che si dovessero... È chiaro che noi rispondiamo quasi tutti o tutti che l'indennità di carica rinunciamo. A quanto leggevo in un'intervista al Vicepresidente Leone, che è quello che ha preseduto la prima seduta della Camera, c'è ben altro, è molto personale da assumere, ci sono uffici che costano un bel po'. Quindi l'idea è quella di riorganizzare magari l'ufficio di Presidenza, cercare di lavorare in collaborazione con gli altri Vicepresidenti, con i questori, con i segretari, con il Presidente in carica, proprio per riorganizzare la macchina. Non è detto che servano tutte le cose che ci sono. Di certo 13 mila euro di spese di rappresentanza, quattro segretari che aveva solo il Vicepresidente Leone, a me sembra un po' troppo, oltre al parco macchine e così via. Quindi c'è tanto altro da rivedere, secondo me. Massimo. In aggiunta a quello che diceva, è anche dare l'esempio, anche nel caso in cui non ci fosse collaborazione degli altri Vicepresidenti, fare lo stesso come si sta facendo noi per quanto riguarda la parte dell'indennità. Cioè se già noi portiamo lì l'esempio e non prendiamo i 13 mila euro di rappresentanza, ci riduciamo il numero di persone che lavorano per noi, eccetera, eccetera, perché indubbiamente non ne troviamo una necessità, per me è già un esempio, che emette un contrasto forte fra noi e quelli che sono gli altri partiti che comunque avranno una Vicepresidenza. Allora, passiamo alle votazioni perché non ci sono altre domande. È vero che la domanda tu hai detto che la facciamo più volte, però ci stiamo prendendo degli impegni di fronte ai cittadini streaming, che è una cosa straordinaria. Allora, se potete per cortesia si spostarvi un attimino, che vi chiamiamo. La votazione è semplice, sono due candidati per cui dobbiamo esprimere il nostro candidato, diciamo, principale come Vicepresidente. Passiamo a votare Luigi Di Maio, se ti puoi avvicinare cortesemente. I contatori ci sono. Tutti i votanti seduti cortesemente. Chi è cascato? Seduti, no, per terra. Allora, votiamo per Luigi Di Maio da questo momento. Grazie. Massimo Artini. Da questo momento votiamo per Massimo Artini. Grazie. Grazie. Il nostro candidato, diciamo, numero uno, ma solamente per quanto riguarda il posizionamento, è Luigi Di Maio, e possiamo fare un applauso. E l'altro è Massimo Artini, stesso identico applauso. Vi vedremo probabilmente entrambi, insomma, buon lavoro. e procediamo velocemente appunto con l'elezione, la graticola dei candidati segretari. Sì, sì, sì. Adesso Giulia ci farà la solita introduzione. Allora, articolo 11 del regolamento della Camera. I segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera. Ne danno lettura, formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati scritti a parlare, danno lettura delle proposte dei documenti, tengono nota delle deliberazioni, procedono agli appelli, collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto, registrano quando occorra i singoli voti, accertano che il rosoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e che non vi sia alterazione dei discorsi. Concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente. Candidati segretari, venite. Forza. Dobbiamo eleggere quattro candidati segretari. Esatto, come sempre l'ordine è per avere il diritto noi e i cittadini a casa di conoscerli meglio. Partiamo nello stesso identico modo, inizia tu con la tua presentazione. Salve a tutti, sono Claudia Mannino, sono Sicilia 1 occidentale, sono un architetto, ho un master in gestione dell'innovazione delle piccole e medie imprese e mi candido a questa carica proprio per assicurare la regolarità e la presenza equa di tutti i gruppi parlamentari. Penso che è una carica che ci spetta e che abbiamo un peso politico da non sottavolutare. Grazie. Sono Azzurra Cancelleri, Sicilia, mi candido a questa figura di segretaria, io studio economia e finanza, però credo che per svolgere questo ruolo non servano delle capacità tecniche particolari, ma più che altro delle capacità personali che riguardano l'organizzazione e proprio il controllo, perché l'attività di controllo è quella che più che altro fa il segretario, soprattutto riguardo anche lo svolgimento delle votazioni, tipo tutte queste schede nulle che spesso nelle votazioni abbiamo visto, uno di noi che comunque sarà lì, però che controlli l'effettiva nullità delle schede è importante. E quindi, come Claudia, dico, mi offro, do la mia disponibilità a svolgere questo ruolo. Solo una nota di colore, dicono da casa che ho sbagliato un congiuntivo, me ne rammarico moltissimo, fusticazioni in sala mensa domani da parte di tutti, però è vero, questo è il feedback, ho sbagliato un congiuntivo, mi dispiace. Andiamo avanti. Io sono Eleonora Bechis, ho 38 anni, ho 38 anni, sono di Torino, Piemonte 1. Io ho ragionato, studiando il regolamento ho ragionato abbastanza su se propormi o meno, mi costa tantissimo stare qua a parlare a voi e presentarmi perché non è nelle mie corde, però io non ho grandissime esperienze, sono un tecnico delle attività alberghiere e anche come lavoro, io ho lavorato in una portineria per 11 anni, fino all'altro ieri, che già questo potrebbe essere una bella garanzia per il ruolo in cui mi vado a proporre. Mi sono chiesta quale supporto avrei potuto dare a stare qua come deputata, è un ruolo importantissimo per me e credo che questo potrebbe essere il mio posto. Riccardo Fraccaro, Trentino Alto Adige. Ho 32 anni, sono laureato in giurisprudenza, dopo la laurea mi sono conseguita con una tesi in diritto internazionale dell'ambiente, ho lavorato per una società di servizi energetici dove mi occupo di contratti, di bandi, di gare in materia energetica. Per quanto riguarda la mia candidatura, credo anch'io che questo ruolo sia il meno politico di tutti e tre, quindi presidente, compreso anche vicepresidente, questore e segretario. Ha un ruolo molto tecnico, legato soprattutto all'attività assembleare e anche meno, forse, meno importante di una volta, dato che ad esempio non dà nemmeno lettura del processo verbale, perché è troppo corposo. Il ruolo veramente importante lo riveste in quanto partecipa all'ufficio di presidenza, quindi il suo voto c'è all'interno dell'ufficio di presidenza, dove si vota maggioranza, ad esempio per l'approvazione del bilancio della Camera, per l'elezione del Presidente Generale della Camera, insomma temi molto scottanti che per noi sono interessantissimi. Detto questo, credo di avere buone qualità, di organizzazione del lavoro, di razionalizzazione del lavoro, spero magari di avere in pochi momenti in cui abbiamo collaborato assieme di averli dimostrati. Verità è che io questo ruolo non posso, cioè mi sono candidato con una certa titubanza, perché sono l'unico eletto in Trentino Alto Adige e quindi ho il timore di, con questa candidatura, di avere meno tempo da dedicare sul territorio, onestamente. Spero di aver fatto la scelta giusta perché riuscirò a portare il voto del Trentino Alto Adige all'interno dell'ufficio di presidenza della Camera, quindi magari il baratto è utile e verrà capito. Grazie. Ci sono delle domande? No, insomma sono stati molto esaustivi. Possiamo passare alle votazioni allora. Allora abbiamo pensato appunto per votare un'unica volta di esprimere due voti, quindi ognuno può votare due volte, due candidati differenti e poi in questo modo appunto non abbiamo bisogno di una seconda votazione. Quindi potete votare i vostri due candidati e su questa base appunto, grazie per il sorgirimento, e andiamo a stilare la gradatoria finale. Ci siamo? Seduti i votanti? Sì, ne possiamo, ne dobbiamo votare due, esprimere due preferenze. Esprimiamo due preferenze, d'accordo? Allora, sì, se si può avvicinare gentilmente Claudia Mannino. Adesso correggiamo. Chi vota per Claudia Mannino ha si la mano. Grazie. Azzurra Cancelleri. Chi vota per Azzurra Cancelleri alzi la mano. Ricordo due preferenze potete esprimere. ed onora Becchis. Chi vota per Eleonora? Chi vota per Eleonora? Riccardo? Riccardo Fraccaro? Chi vota per Riccardo? La mano. Grazie. Grazie a tutti. 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 Vi abbiamo raccontato un momento davvero storico, siamo contenti anche se siamo stanchi e Giulia, che dire, siamo in Parlamento finalmente ed è un piacere. Buona serata a tutti.